una giornata quella di ieri che rimarrà sicuramente nella storia della roma la principessa ereditaria di svezia victoria infatti ha visitato ieri pomeriggio a partire dalle ore 16 e 30 la scuola calcio as roma più undicesimo la principessa è stata accolta dal direttore generale mauro baldissoni e dall'amministratore delegato umberto gandini che hanno fatto da ciceroni e hanno illustrato la struttura all'interno della quale si svolgono gli allenamenti dei più piccini è stato poi il momento di far conoscere a sua altezza reale uno dei progetti più importanti e di maggior successo della roma il progetto calcio insieme che la società giallorossa in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica calcio integrato porta avanti da ormai un anno e che costituisce spunto di riflessione anche per altre realtà calcistiche e non solo tra tiri in porta e sonore parate i bambini diversamente abili che prendono parte a questa iniziativa hanno avuto modo di conoscere e salutare la principessa che si è resa molto disponibile e ha manifestato tutto il suo interesse per noi motivo di orgoglio noi siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a mettere insieme già la stagione scorsa questo progetto che aiuta dei bambini con disabilità intellettive soprattutto parliamo di bambini con problemi di autismo che attraverso questo programma riescono ad integrarsi meglio anche nella loro vita quotidiana poi l'attività è seguita e analizzata da un team di psicologi il lavoro del quale ora sarà pubblicato addirittura in riviste mediche perché hanno potuto effettivamente misurare dei progressi concreti in quello che è appunto l'attività quotidiana di questi ragazzi anche al di fuori del del campo e noi ci siamo ovviamente offerti poi di dare ulteriori informazioni e collaborare per eventualmente replicarlo anche in svezia perché noi siamo molto contenti di poter condividere quello che stiamo facendo anche in italia con con altre società a cui lo proporremo ma se è possibile travalicare anche i confini italiani e fare qualcosa in svezia ovviamente un ulteriore motivo di orgoglio lo staff tecnico giovanile AS Roma ha poi condotto la principessa e il marito Daniel sul terreno del campo di allenamento dove i giovani atleti classe 2007 hanno regolarmente svolto il loro allenamento pomeridiano ma quest'oggi con un pubblico d'eccezione al centro del campo di gioco la delegazione svedese e la rappresentanza AS Roma si sono scambiate dei doni anche il capitano francesco totti infatti ha omaggiato la principessa e i suoi bambini di una sua maglia autografata e personalizzata sullo sfondo la suggestiva cupola della basilica di San Pietro che dal tramonto in poi si è resa protagonista di una delle migliori scenografie di sempre è stata una visita inaspettata ma molto piacevole che dimostra ancora una volta quanto sia importante e riconosciuto la Roma nel mondo e il fatto che abbiano proprio voluto specificatamente visitare il nostro settore giovanile il nostro settore qui ha portato grande piacere grande orgoglio fotografi cameraman e giornalisti della stampa svedese internazionale hanno immortalato un pomeriggio che potremmo definire storico e che nella sua positiva anomalia ci ha dimostrato quanto l'integrazione a qualunque livello sia un valore fondamentale e imprescindibile